Acque agitate in casa Coralina dopo il rebus napolitano Marsella. Anche la posizione del tecnico Mirko Conte, secondo i rumors, non sembra stabilissima. Nonostante l'allenatore Coralino stia predicando nel deserto con una rosa che nonostante le tante pretese e ci sono fatte per i confermati della passata stagione, non ha convinto per il momento gli addetti ai lavori. Le voci delle ultime ore parlano di una panchina bollente per l'ex Lugano Juventus Next Gen che potrebbe giocarsi una grande fetta di futuro nella gara di domenica pomeriggio contro l'audace Cerignola. Il tecnico Lombardo a rosa completa ha collezionato tre pareggi, una vittoria e una sconfitta, in caso di esonero da scartare anche l'ipotesi che porta al ritorno di Leonardo Menichini, nonostante il tecnico di Ponzacco sia ancora al libro pago della società. In casa Audace Cerignola si lavora per trovare l'erede di Luigi Cuppone dopo l'infortunio dell'attaccante. Il presidente Nicola Canonico ha annunciato la volontà di intervenire sul mercato svincolati. In casa Taranto, rinnovato l'accordo con lo stadio fino a gennaio, poi c'è la possibilità di giocare a Francavilla. Chiaramente, al di là del campo da gioco, c'è la questione legata alla penalizzazione in arrivo. Il Catania riabbraccia il direttore sportivo Daniele Faggiano. L'applauso dei giocatori ha sottolineato le prime fasi del colloquio che brevemente Faggiano ha lanciato al gruppo, tutti uniti ancora di più. Poi, ai bordi del terreno di gioco del Cibarino, il direttore è assistito all'allenamento e tramite canali ufficiali ha lanciato il suo messaggio di ringraziamento. Ma non solo. Faggiano per alcuni giorni è stato lontano dall'ambiente di lavoro per un problema di salute che adesso sembra superato ampiamente. Grazie.